Ritrovare una vittoria che manca già da tre turni è un pizzico di serenità. Lo scalea che affronta domani l'anticipo contro un San Marco quasi disperato ha bisogno di punti più per il morale che per la classifica. Se infatti l'obiettivo salvezza non pare ormai in discussione e quello play-off resta alla portata, nonostante la classifica si sia accorciata con tante squadre pretendenti per un posto negli spareggi, vincere oggi è una necessità psicologica per ricompartare quel gruppo che nel girone d'andata aveva fatto grandi cose con un ruolino di marcia da prima della classe. 30 punti frutto di 10 vittorie e 5 sconfitte. Nelle 10 partite finora disputate dopo il giro di Boa lo scorre invece da retrocessione. Due vittorie, tre pareggi e 5 sconfitte, 13 gol fatti e 17 subiti. Numeri che parlano chiaro. Altro dato inconfutabile è il rendimento interno. Una sola vittoria alla seconda giornata era il 13 gennaio, poi due pareggi con Fuscaldo e Praia entrambi in rimonta e due sconfitte con Torretta e tre bisacce. Mentre all'andata i ragazzi di Possidente non avevano sbagliato un colpo, fatto salvo il KO nell'ultima giornata contro la Rossanese. Il San Marco viene da due sconfitte consecutive e in casa non vince dall'11 novembre 2-1 alla capolista rossanese.